La criminalità assolutamente non è in aumento, anche perché noi vediamo dei trend che stanno diminuendo progressivamente negli anni e in modo costante. È ovvio che diminuiscono soprattutto alcuni reati, anche quelli più gravi come ad esempio gli omicidi, diminuiscono i furti, le rapine, ma non diminuiscono ad esempio i reati informatici. La cosa molto più interessante è il fatto che ogni volta che c'è una novità sul mercato economico c'è anche una novità nel mercato criminale, quindi per questo motivo va assolutamente seguito e monitorato anche tutto ciò che è il concetto di innovazione. I dati che vediamo dalle statistiche di polizia, quindi i dati amministrativi che ci manda il Ministero dell'Interno, notiamo come praticamente c'è stata una diminuzione del 16% tra il 2013 e il 2017. Questo nasce dopo un picco di reati, soprattutto di carattere economico, reati contro proprietà, i furti, le rapine, dovuti anche alla crisi economica e finanziaria iniziata nel 2008, che invece nella criminalità ha iniziato questa crescita di reati nel 2010. Sono anni invece in cui la criminalità sta assolutamente diminuendo. Ma che riscontro abbiamo di questo? Essenzialmente utilizziamo un'altra fonte, l'indagine sulla sicurezza dei cittadini, che va a intervistare proprio i cittadini, 50.000 dai 14 anni in su. Qual è il di più? Qual è il vantaggio di questa indagine? È che mentre nelle statistiche di polizia noi abbiamo soltanto chi denuncia quei reati oppure l'attività investigativa delle forze dell'ordine, ai cittadini ci sono tutti i vanti e quindi abbiamo la possibilità di sapere se hanno subito o meno un reato, sia che l'abbiano denunciato, sia che non l'abbiano denunciato. È per questo che per andare ad analizzare un trend, quindi capire se la criminalità aumenta o diminuisce, ci serve proprio un'indagine che coglie anche il sommerso.